hello witches benvenuti e bentornati sul mio canale io sono martina e oggi andremo a fare uno dei miei esperimenti sui miei capelli nulla di grave ovvero il curly girl method che cos'è il curly girl method è una hair care routine dove non viene usato alcun tipo di calore sui capelli e non vengono utilizzati prodotti che contengono solfati parabeni e alcol non vengono usate né spazzole e né pettini ma solo le proprie mani per pettinare i capelli ed è un metodo che ha spopolato qualche anno fa e che è stata una rivoluzione per tante persone perché hanno effettivamente visto dei risultati facendo questo metodo nel tempo voglio fare questo video perché qualche tempo fa ho postato una foto nelle storie dove avevo asciugato i miei capelli con il diffusore ed erano venuti tutti quasi boccolosi ma crespi non erano venuti bene sembravo un barboncino bagnato e molti di voi mi hanno detto dio martina ma devi provare il curly girl method perché hai capelli ricci tu sei riccia e effettivamente io non sono riccia ma ho i capelli mossi quando ero piccola avevo dei boccoli bellissimi questi bei capelli privi di crespo erano proprio ricciolini questo perché mio papà è riccio lui è proprio riccio e lo sono anche i suoi genitori e quindi c'ho dei geni dentro di me ricci i miei capelli al naturale sono abbastanza mossi e quando li asciugo al mare sono bellissimi perché mi vengono quelle beach waves bellissime purtroppo però negli anni non mi sono mai presa cura dei capelli sotto quel punto di vista non ho mai fatto una hair care per i capelli ricci mossi e addirittura quando ero quando ero piccola soprattutto che andavo alle superiori mi tiravo sempre i capelli e ce li avevo sempre lisci questi sono i miei capelli al momento sono un po' mossi perché ho fatto il laccio dell'accappatoio e sono da lavare quindi adesso andremo a lavarli a fare questo metodo però vi voglio solo far vedere com'è un po' il prima io se asciugo i capelli solo col phon così non mi vengono mossi o boccolosi anzi vengono quasi lisci ma crespi e la tecnica del laccio dell'accappatoio mi aiuta a non rendere i capelli crespi e dargli un po' un senso no? voglio fare una premessa allora io non sono un'esperta di questo metodo assolutamente faccio questo video per una curiosità personale per vedere se funziona questa tecnica sui miei capelli se i miei capelli sono ancora in grado di rendersi un pochino boccolosi o mossi nonostante le decolorazioni e nonostante il fatto che non siano naturali ma siano capelli trattati molto trattati questo metodo bisogna farlo per mesi prima di vedere i risultati c'è chi vede i risultati dopo sei mesi chi dopo dodici perché ovviamente facendolo ogni volta che lavi i capelli i capelli si abituano e riesci a farlo più facilmente a renderli ricci più facilmente questo video io lo faccio per puro intrattenimento siamo qui per divertirci insieme passare insieme del tempo ho visto diversi video su youtube mi sono documentata su quale fosse la tecnica c'è chi dice cose diverse seguirò gli step che più o meno ho visto fare a tutti facendo questo metodo inoltre se avete consigli su come fare questo metodo scriveteli pure giù nei commenti datemi tutti i consigli che volete tutte le vostre esperienze perché sono molto curiosa di sapere come ha cambiato la vita di molte persone questo metodo io adesso vado a lavare i capelli e ci vediamo dopo eccomi di nuovo qua ho lavato i capelli e li ho lavati con lo shampoo e il balsamo questi qua sono di marianila me li ha inviati il brand e sono shampoo e balsami privi di siliconi e parabeni perché vengono usati shampoo e balsami privi di parabeni e siliconi perché queste sostanze rendono i capelli crespi quindi il primo step è stato lavare i capelli ho usato lo shampoo poi il balsamo e l'ho applicato pettinando i capelli con le dita ho lavato via il balsamo ho iniziato a strizzare i capelli in questo modo così prendendoli da sotto iniziando a strizzarli così e come vedete non sono lisci sono un pochino mossi non sono boccoli ovviamente ma sono giusto un po mossi e non ho dovuto usare alcun tipo di asciugamano l'asciugamano me lo sono messo solo sulle spalle per non far toccare i capelli sulla mia schiena perché sono in mattiera adesso l'altro step è mettere il living conditioner nei capelli ovvero un balsamo senza risciacquo ieri sono andata da acqua e sapone ho acquistato questo balz questa maschera qui di garnier che è utilizzata anche come living conditioner e c'è scritto che si può usare sia come balsamo che come maschera che come trattamento senza risciacquo questa qua è quella all'aloe quella alla banana non mi piacque per niente ne vado a prendere un cicinin giusto ma poco alla volta la spalmo tra le mani e adesso devo andare a strizzare i capelli ma con il living conditioner quindi li prendo da sotto e li strizzo aspettate mi devo mettere a testa in giù e adesso devo fare questo strizzare come se non ci fosse un domani comunque si può notare dai miei capelli che questi non sono assolutamente capelli lisci si vede che c'è un po di boccolosità qua sotto ne abbiamo un po' va messo il living conditioner e va strizzato così perché i ricci i boccoli devono venire idratati hanno bisogno di tanta idratazione quindi si mette anche un balsamo senza risciacquo mica pensavate che lo strizzamento è finito no qua bisogna andare a strizzare all'infinito cioè è uno strizzamento unico questo metodo bisogna andare a prendere una t-shirt io ho già le t-shirt che uso quando mi asciugo i capelli perché ho smesso di usare gli asciugamani perché gli asciugamani fanno troppa frizione e rendono i capelli crespi mentre usare una t-shirt è molto meglio per i capelli perché non creano quella frizione che porta poi al crespo adesso devo strizzare di nuovo i capelli ma usando la maglietta la mia magliettina solita diamo il via un'altra sessione di strizzamento e faccio la stessa cosa che ho fatto prima con il living conditioner e vado a strizzare proprio fino alla nausea questo è un workout cioè qui ci si proprio si bruciano calorie a fare sto metodo bene allora prossimo step è utilizzare il gel ai semi di lino ho visto una ragazza che lo usava e ho detto perché no so già come si fa se non avete visto il video dove lo faccio ve lo lascio qua sopra è semplicissimo ci vogliono solo acqua e semi di lino e devo andarlo a mettere nei capelli come prodotto finale di questo styling perché il gel ai semi di lino è fantastico per i capelli ricci perché idrata molto e li rende definiti e adesso devo andarlo a strizzare nei capelli come ho fatto fino ad adesso è meraviglioso sembra slime e la cosa bella del gel ai semi di lino e che rende i capelli lucidi e li idrata tantissimo essendo gel è anche un po colloso e quindi va a fissare proprio il boccolo wow wow allora onestamente non so quanto gel ai semi di lino io debba mettere nei capelli ma credo di averne messo abbastanza dopo aver messo il gel ai semi di lino devo continuare a strizzare i capelli con l'asciugamano ve l'ho detto preparatevi perché se dovete fare questo metodo vi dovete preparare psicologicamente alla quantità di volte che dovrete strizzare i capelli ok una volta fatto questo che a me fa troppo ridere i capelli sembrano davvero molto mossi chissà alla fine di questo video che cosa succederà comunque adesso devo mettere i capelli in una in una t shirt quella lì è troppo bagnata ne ho preso una asciutta è sempre una t shirt che io uso per i miei quando mi asciugo i capelli allora praticamente devo mettere la t shirt così su un piano devo andare a mettere i capelli sopra in questo modo e chiudere tutto questo è il risultato finale del turbante i capelli sono in questo modo li lascio così adesso vado a mangiare e poi dopo continuiamo con gli altri due step finali e vedremo il risultato eccomi qui di ritorno dopo aver pranzato allora l'impalcatura qua mi è caduto un po questi sono i capelli al momento promette bene la situa però non so sono ancora parecchio bagnati e umidi io adesso in teoria devo asciugarli con il diffusore ma allora io non ho capito cosa è successo ai miei capelli come è possibile io non ho mai avuto i capelli così boccolosi e non sono nemmeno crespi assolutamente no non sono crespi e non sono nemmeno tipo effetto brutto non lo so sono così belli e non è finita qui perché io adesso che sono asciutti sono un pochino umidi qua sulle radici però li lascerò asciugare all'aria devo finire mettendo ancora un po di gel ai semi di lino quindi vado a fare questo l'ultimo step proprio la fine di tutto questo è mettere adesso il gel ai semi di lino e lo applico come ho fatto fino adesso ovvero strizzando i capelli in questo modo che credo che questa in questo modo li renda ancora meno crespi eccoci qui con il risultato finale io non me lo sarei mai aspettato sembra che sono stata al mare non lo so sono sono così morbidi e il fatto che non siano crespi io non so magari a voi sembreranno crespi ma vi giuro che non lo sono ci sono proprio delle onde c'è questo questo lato ancora di più è molto più definito e secondo me se io continuassi a farlo ogni volta che mi lavo i capelli cosa che non credo farò ma dubito proprio secondo me verrebbero ancora meglio più continui ovviamente più vengono meglio questi sono i capelli dietro il fatto è che non so come metterli sopra ok forse così forse così ok un po' shakira vibes con questi capelli mi aspettavo che non cambiasse nulla cioè che non venisse assolutamente nulla sui capelli qua si sono formati addirittura questi boccoli da pacchi regali la cosa che mi piace di più è che non sono crespi questa cosa è molto sorprendente sono proprio un leone al cento per cento adesso con questi capelli mi sento stranissima mi guardo lo specchio e dico wow chi sei chi è lei col cappello sono un sacco fighi secondo me è un metodo che devono fare persone con capelli mossi e ricci perché non credo che sulle persone con i capelli lisci cambi qualcosa succeda qualcosa però abbiamo visto che comunque anche facendolo una sola volta i risultati si vedono quindi direi che questo esperimento è stato un successo facciamoci un applauso bene il video è finito mi raccomando stay positive and be kind io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao